Sono mesi che i residenti del centro storico di Teramo lamentano risse, aggressioni e schiamazzi, in particolar modo nelle serate del fine settimana. Protagonisti di queste scorribande violente sono per lo più minorenni, molto giovani, spesso ragazzini delle scuole medie, che si ubriacano pesantemente e dopo essersi uniti in branchi, si affrontano tra di loro, vandalizzano strade e piazze e molestano chiunque gli capiti a tiro. Il problema principale sembra essere l'alcol che viene loro venduto liberamente nonostante non sia consentito. La situazione sembra essere davvero degenerata se è dovuto intervenire personalmente il sindaco Gian Guido D'Alberto, che nel weekend ha fatto il giro dei locali cittadini dichiarando di essere rimasto sconvolto da quello che ha visto. Sabato sera, racconta D'Alberto, ho direttamente constatato che i bar della città erano affollati all'interno e all'esterno da decine e decine di ragazzi, anche minorenni, intenti a consumare alcol e ho chiesto l'intervento della polizia locale per gli accertamenti e le verifiche del caso. Mi sento a questo punto, continuo al primo cittadino di Teramo, di applicare una sorta di tolleranza zero su un fenomeno che comincia davvero ad assumere dimensioni e aspetti particolarmente gravi, sia per quanto concerne la salute psichica e fisica dei ragazzi, sia per quanto riguarda le conseguenze, come il verificarsi di episodi di bullismo e di vandalismo che deturpano la città. D'Alberto chiede collaborazione anche agli adulti, ai genitori e agli stessi gestori dei locali di somministrazione di bevande. Invito pertanto, conclude il sindaco di Teramo, tutti coloro che hanno potere e dovere di intervento, e non dimentico le forze dell'ordine, ad una più concreta e assidua assunzione di responsabilità. È necessaria la fermezza, ma anche scelte esemplari, che in generino un amore per la vita, per la bellezza e per la propria città.